Voglio una foto della coppa con il simbolo aziendale, o vi licenzo? Chiarissimo, vogliamo fare un selfino mentre siamo qua? Dottor Fumagalli, buongiorno! Ragazzi, dove vado io? E con chi andresti? Non so, con mezzo direttore, uno di Milano, non vuoi... Non vorrere, pensa a me! Non ti preoccupare, grazie, ciao, buonanotte! Buonanotte! Hai fatto tardi anche stasera? Ho fatto tardi, sono incazzato come una iena! Faremo il viaggio insieme, complimenti, eh! Sta a pensare a come sono vestito io in quel giretto! Ah, le piace? No, al cano mio gli piacerebbe bevete! Raddrizzi il sedile e non telefoni durante il volo! La scorigetta la posso fare? Lei è una brava persona, si vede! Se io avessi voluto questa sera fare una bella giulatina, lei cosa avrebbe detto? Oh! Stronzo! Queste qua adesso stanno a guardare fisse fisse qua, eh? Sono due mignotte! Andiamo insieme! Ma che ha i tuoi challenge? Che c'ha l'interiore a cadicare! Lo vuole il bombolone con la crema tutta la notte! Strisciamo tutta la notte! Che tricche tracche, tricche zang, zang, zang! Come la trovo del merda a fumagliare! Come vuoi che mi sbeste, diciamo... Ammigliando dolce e bottana! Sono 100 euro! 100 euro! Ah, faccio, dopo il campionato non so! Guarda, guarda dove va! Ah, da fuori! Oh, che bello ambiente! Siamo veramente nell'eccellenza! Occhio, malacchio, che sei malefino! Deve buttare il salito dalla schiena! Au! E' il culo sciacchia di cozze, è la morte sua, questo! La coppia dei campioni! Analesca, tagliamo! Analesca! Ho fatto beauty cool! Chiava, d'arca! Chiava, d'arca! Memoria di una bachelisha, ma quell'altra come ha fatto? A piedi inutili nel porco! E poi il capolavoro, il capolavoro del capolavoro! Cazzitra! Dal 28 aprile al cinema!